Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come trovare tutte le case che camminano su Elden Ring Innanzitutto dirigiamoci qui in questo posto a Sepulcroid E' il posto dove cominciamo la storia all'inizio Quindi dirigetevi in questa zona e lì proprio lì troverete la casa che cammina Perché io già l'ho buttata giù Quindi molto semplice Facile Quindi io non so quante case esistono su Elden Ring Però ne ho solamente trovato e quattro Quindi oggi vi faccio vedere dove trovarle tutte Anche in posti molto difficili da esplorare Un altro posto dove andare è qui ai soborghi E' molto semplice perché qua non è come se tu rompi gli scheletri vicino alle gambe e cade No, qui dobbiamo salirci sopra Quindi se tu hai questo punto ti grazia Qui allora ok Dirigiti da questa parte Quindi vai da questa parte Scendi qua sotto E proprio lì alla tua sinistra Puoi scendere piano piano La casa si avvicina un po' vicino al muro E tu ci sali sotto Ci ho fatto anche una guida su come salirci Un altro posto dove andare è alla neve Molto semplice perché Se voi avanzate nella storia Troverete soprattutto questo castello Perché qua c'è anche la parte del medaglione per sbloccare la parte Come si dice all'arbero sacro Quindi qui troverete un'altra casa Un altro posto dove esplorare Un altro posto dove cercare questa casa È un po' difficile Quindi prima cosa fate delle missioni per ranni Andate a Noxtella E una volta sconfitto quei gargoyle Prendete quella catacomba Che vi porterà qui alla cascata E entrerete all'interno Nell'abisso tra le radici E qui Proprio qui Troverete un'altra casa che cammina Qui L'ho scoperto dopo aver sconfitto i due gargoyle Quindi era molto semplice Molto semplice Una bella storia Qua dentro Ho sconfitto pure il boss Beh più che boss erano tre tizi Uno, due, tre tizi Siamo tutto cinque personaggi da uccidere Molto semplice Quindi dirigetevi da questa parte Salete qua sopra Lì c'è un boss a fare E proprio qui Proprio là Dove sta la casa Che sta a terra Perché io ce l'ho buttata giù E lì troverete Quello che volete Non so Sceggite voi la vostra rimembranza Perché io Una volta aperto le porte Sono entrato dentro E non mi ha dato niente Non mi ha dato niente Non lo so perché Non mi ha dato niente Ma vabbè Una cosa che Vi consiglio È esplorare bene Sto posto Perché Ce ne sono di caverne Da esplorare Perché ne ho trovata una sola E sono riuscito a trovare Qualche incantesimo Ho sconfitto Qualche boss E mi ha dato qualche Pietra Del drago antico Quella del livello 10 E niente È tutto qua È un piccolo posto Quindi una piccola zona Con la casa che ho fatto Cadere giù Tanto è molto facile Basta salire sui rami E buttarsi sopra E sconfitto E distruggere i teschi Però è strano Non mi ha dato la rimembranza Non mi ha dato niente Eh Quindi ragazzi Grazie a tutti per questa visione Il video finisce qui Se il video ti è stato utilissimo Ragazzi Lasciate like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao Ciao